I narcisi sono bulbose, diffuse anche naturalmente in natura in Europa, vengono coltivati da secoli e possiamo trovare in commercio centinaia di ibridi e cultivar dai fiori più vari I bulbi sono bulbose adatte all'inselvatichimento, possono venire interrate direttamente nelle aiuole soleggiate del giardino, lasciandovele per tutto l'anno, senza temere il gelo Nel corso degli anni i bulbi produrranno nuovi bulbilli, aumentando la macchia di narcisi con sempre più fiori di anno in anno Si pongono a dimora in un buon terriccio soffice e fresco, arricchito con poco stallatico e ben lavorato Per vedere subito l'effetto finale della aiuola possiamo anche porre a dimora dei narcisi già in fiore Avendo cura di non manipolare troppo il pane di terra attorno ai bulbi, preleviamoli dal vaso e poniamoli nel terreno alla stessa profondità a cui venivano tenuti in vaso Grazie per la visione! Grazie per la visione! Compattiamo leggermente il terreno attorno al fogliame ed annaffiamo Per avere una bella aiuola sempre fiorita negli anni, ricordiamo di non posizionare troppe piante di narciso vicine, in modo che ogni bulbo possa trovare sufficiente spazio per svilupparsi Quando il fogliame ha fine fioritura dissecca possiamo tagliarlo alla base e dimenticarci dei narcisi fino all'anno successivo Grazie per la visione!